E allora si comincia, questa è Prato Forlì. E ancora il Forlì, attenzione la palla all'interno dell'aria, Bertini riesce a disinnescare sul colpo di testa operato da Variare. Con la palla che viene gestita in questo momento ancora da Ballardini, conclusione di Ballardini la palla che termina. Barriale, attenzione a Barriale, uno contro uno con Campanel, ancora Barriale, parte, Barriale, Bertini in uscita, ancora una volta decisivo. E Barriale quando parte difficilmente si prende con Bertini, molto molto bravo, attenzione siamo dall'altra parte, Diallo, 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 la parata di De Gori. Poi ancora Nizzoli, trovate, 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 alto, alto, alto. Intanto attenzione perché c'è il lancio per Diallo, la posizione regolare, Diallo, 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 Diallo a palo, Diallo a palo, Babilio, e poi c'è De Gori. Trovate adesso, trovate dentro a Diego Babilio, 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 c'è De Gori che disinnesca ancora sul primo palo. Ancora Nizzoli, attenzione a Diallo, il pallone ancora per Babilio, la chiusura da parte di Ronchi, poi Rappai. Attenzione perché c'è un problema per Diego Babilio. E allora si riparte, questo è il secondo tempo di Prato-Forlì. Diallo, Diallo, occasione, Diallo! Diallo se l'è divorato. Petronelli, ancora Petronelli, Petronelli la mette, Diallo di testa, la parata! Ma cosa ha preso poi? Il tene ancora la parata, non ci credo! Trovate, va verso la porta, vediamo, si va a trovare la battuta, la palla fuori, deviata, deviata. Ancora Rappai, la mette Rappai, arriva Ballardini fuori, arriva Ballardini fuori. Ancora la palla per Nicoli, ancora Nicoli, la battuta, la parata di De Gori! Tutti a fare la doccia, finisce qua, è 0-0, è 0-0 a lungo presenzio.